Grazie. Grazie. Grazie a tutti per questa occasione. Quindi, appunto, avete visto, si sono abbassate le luci, vi farò vedere molte immagini, vi conviene tenere gli occhi sullo schermo, dimenticare me, sentire solo la mia voce, ci guadagnate anche. Allora, cominciamo direttamente, guardate questa fotografia, ve la farò rivedere molte volte questa sera. Questa fotografia in realtà non è colpevole di nulla, neanche della bugia che dà il titolo a questa chiacchierata di questa sera. Però, quando apparve, portò a gallo un problema che percorre tutta la storia della fotografia, ma non è mai stato percepito come un problema. Le polemiche che hanno accolto questa fotografia, l'apparizione di questa fotografia, ci dicono forse invece che i tempi sono maturi per riflettere sul problema della funzione ideologica e retorica del colore. La fotografia che vedete fu scattata da un fotografo freelance svedese, si chiamava Paul Hansen, e ottenne il titolo di foto dell'anno 2012 dal World Press Photo, l'Oscar olandese del fotogiornalismo. La foto fu però accusata, appena dopo la premiazione, di una specie di reato di colore. Il capo d'accusa era una sensazione di implausibilità, di disgradevolezza, c'era qualcosa che non andava nel tono dell'immagine. Il movente del presunto reato di colore, la drammatizzare la scena per vincere il premio. In realtà di drammatizzazione di questa immagine non sembrerebbe avere molto bisogno, perché mostra il funerale, piuttosto concitato, di due fratellini palestinesi, Suhaib e Muhammad, due, quattro anni, uccisi il 20 novembre 2011 nel bombardamento israeliano della loro casa a Gaza City. E' un'immagine, come vedete, di dolore estremo, e anche un chiaro grido contro una guerra ingiusta, spietata. Per la giuria di Amsterdam, qualsiasi cosa abbia fatto con Hansen alla sua foto, però, rientra nelle pratiche accettabili della professione. La giuria stabilì che non sono state trovate prove consistenti di manipolazione. In realtà quella foto era stata drammatizzata, agendo però solo sui toni e sui colori. E non è difficile da dimostrare, del resto nessuno l'ha neanche potuto negare dal momento che la fotografia era già uscita su un giornale svedese, in una versione leggermente diversa. C'è una fotografia, insomma, da concorso e una fotografia per il pubblico. Sono lo stesso scatto, ma una versione racconta un funerale che si svolge in un giorno di sole brillante, e l'altro un funerale che si svolge in un giorno più velato. Una mostra un corteo di uomini con le facce rosse e un altro di uomini con le facce livide. Di sicuro è lo stesso scatto, di sicuro non è lo stesso racconto. Non so che impressione vi faccia, non so se a voi interessi molto la differenza fra queste due immagini, magari ritenete che siano solo variazioni formali, no? Cosa importa? La fotografia racconta un fatto, lo stesso fatto. Però, non so, vi faccio questa domanda, vi fidereste di me se io scrivessi lo stesso reportage per due giornali diversi, cambiando tutti gli aggettivi, cambiandoli anche in maniera notevole, no? Se cambiassi fortemente le descrizioni, c'era il sole? No, pioveva, no? Insomma, cominceresti a dire, sì, va bene, non è che mi stai cambiando il senso della notizia, però scusa, ma c'eri o me la racconti? E se cambi così, con questa disinvoltura, i tuoi aggettivi, non puoi anche cambiare delle cose un pochino più sostanziali nelle cose che mi racconti? Ma la domanda più imbarazzante è questa, e qualcuno l'ha fatta. Questa fotografia, la fotografia di sinistra, avrebbe vinto lo stesso il premio se non fosse stata ritoccata? Guardate che la risposta è cruciale, perché se la risposta è sì, lo avrebbe vinto lo stesso, allora che bisogno c'era di fotoritoccarla per il concorso? Se la risposta è no, allora che cos'è che ha premiato il Wordpress Photo? Ha premiato un contenuto fotogiornalistico o ha premiato un certo sapiente uso delle manipoline dei software di fotoritocco? Ha premiato una testimonianza giornalistica o ha premiato una pittura d'autore? Potreste continuare a rispondermi, non vedo il problema, ma perché cambiare la temperatura di un colore in un'immagine non è una truffa, non è una menzogna, perché è solo forma, non è contenuto. La notizia non cambia. Ecco, io vorrei provare questa sera a convincervi che non è così scontato che la notizia non cambi se io cambio qualche tono di colore in un'immagine. Certo, la prassi in vigore nelle redazioni dei giornali vi darebbe ragione, perché da sempre gli interventi sui toni, contrasti, colori non sembrano essere percepiti dai professionisti dell'informazione come delle alterazioni del contenuto informativo di un'immagine. Sembrano riguardare in effetti solo le scelte di presentazione. sono assimilate alla scelta del formato, insomma, la notizia non cambia se scatto una foto verticale o orizzontale. Per me cambia, ma è un altro discorso. Insomma, sembra che alla fotografia, quando intesa come linguaggio giornalistico, sia negato quello statuto che si riconosce al giornalismo della parola, cioè di essere anche un campo retorico. Ora, molti di voi conosceranno i tre stadi della retorica classica, invenzio, disposizio e locuzio. Il primo, l'invenzio, riguarda la ricerca e la selezione degli argomenti, dei soggetti. Il secondo, la disposizio, riguarda la loro messa in relazione. Cosa ci metto, cosa trascuro, cosa non... Il terzo stadio, l'elocuzio, è quello più sfuggente. Possiamo anche definirlo con semplicità la scelta dello stile, la scelta delle parole con cui dirlo. Ora, il caso della foto che vi ho fatto vedere prima ha sconcertato molti, proprio perché sembrava chiamare in causa un peccato di stile, ma risultava difficile definire l'eventuale colpa in una fotografia dove, verosimilmente, per quanto ne sappiamo, non erano stati modificati i contenuti. Perché, in effetti, quando si parla di fotografie manipolate, solitamente ci si riferisce a quelle in cui vengono aggiunti o sottratti dei dettagli, vengono effettuate delle messe in scena, si effettuano interventi sulla disposizione delle cose davanti all'obiettivo in modo da farle sembrare diverse da come erano, eccetera. Questa, di solito, è la manipolazione in fotografia. Lo stile non sembra intervenire sulle informazioni contenute in un'immagine. Non modifica, non sopprime, non aggiunge, è solo una scelta di accento. Quindi l'elocuzio sarebbe solo la rifinitura, che non ha grande importanza nella confezione del significato di un'immagine. Eppure, ben prima che arrivasse Photoshop, era chiaro a molti che lo stile può cambiare la lettura delle fotografie profondamente. Anche un eroe del fotogiornalismo, come Eugene Smith, per esempio, entrava in camera oscura con un negativo fatto in un certo modo e usciva con una stampa che aveva una mappa dei toni completamente differente. Un grande teorico della fotografia, un grande fotografo e anche teorico della stampa fotografica, Ansel Adams, non si è mai vergognato di ammettere che ogni sua stampa, qui per esempio vedete due versioni diverse della sua foto più famosa, Moonrise Hernandez, che ogni sua stampa sta al negativo come l'esecuzione musicale sta alla partitura. Cioè è un'esecuzione, un'interpretazione che può cambiare secondo l'umore, secondo l'epoca, secondo il gusto, anche presso lo stesso autore. Nel film World Photographer, una lunga sequenza, che non vi farò vedere tutta, la taglierò, mostra l'accanimento con cui James Natchway, che è forse il più accreditato erede di Robert Kappa, fa ristampare decine di volte la stessa fotografia perché non è mai soddisfatto dei toni. e quindi viene la fotografia e questa sequenza che dura una decina di minuti è davvero esasperante perché lui ogni volta... chiediamoci una cosa, di che cosa è fatto uno stile? grazie a tutti